Ciao, sono Daniele Marino. Sono trillero per introdurre l'ecosistema Autodevkit. Siamo con le nostre necessità di trasportare automotivi e la trasportazione. Una strada, costa di prototipazione di sistemi. Questo è qualcosa che abbiamo usato per gestire per gestire i nostri segmenti industriali e industriali, e che ora abbiamo fatto disponibili ai nostri clienti automotivi. L'autodevkit è stato disegnato per aiutare il prototipazione di sistemi di sistemi di automotivi e di trasportazione. Dal punto di vista di hardware, è stato creato di una sette di bordi affrontabili, dedicati a prodotti automotivi, microcontrolli e attuatori. L'esempio include DC conversion, LED lysing, GNSS e audio, per esempio alcuni. L'autodevkit potrebbe essere gruppi su tre classi, un'emco e un'emco funzione di un'emco. Dal punto di vista del software, L'autodevkit riduca drammaticamente il tipo di sviluppo per essere l'automatico generazione, la pin allocazione e la facilità di contraria di hardware. L'autodevkit supporta, step-by-step, esegnerebbe la scelta del knowledge upscaling con scelta molte dei dettati di implementazione. dettagli. Puoi usare un'applicazione senza leggere alcune documentazioni. Una ricollezione di esempi è disponibile per importare e produrre direttamente. Autodevkit è gratuito di download da sd.com-autodevkitsw e tutti i software stacker sono disponibili in SOSCOD, permettendo la customizzazione di tutte le parti. La flessibilità è annunciata dal supporto di multicompilanti. La possibilità di usare o non usare sistemi operativi reali e il risultato riuscito sul mercato Eclipse. In addiczione, usiamo Autodevkit per noi per implementare la nostra propria sistema di design. Potete trovare un esempio di sistema di controllo di Tramp, lavorando diversi dispositivi in altri video che abbiamo creato. Guardate il link nella descrizione. Tutto selezionato, guardate i video di step-by-step su YouTube. Grazie a tutti. Grazie a tutti.